Nella grande città rallenta, osserva le sue finezze di accendersi piano piano, quasi timidamente. Si scorgono fugaci momenti di vita, una libreria in libano, una tv accesa, una sigaretta di disperazione, la parte della lettera sul balcone, una bella famigliola che è rinunita per la cena, la ragazza che si mette a rossetto e si fa bella per il suo ragazzo, trepidante, quasi frenetica, una luce spunta, una luce spenta di due che forse stanno già consumando l'amore e forse lo faranno fino domandino. Domani sarà un altro giorno e la nuova pagina si scriverà in ciascuno finestro. Mi chiedo che ne sarà di tutto questo, se sarà snaturato, stravolto, dimenticato, come al solito succedere di questi giorni, o forse no, chissà. Getto l'ultimo musicone, non ritornare a casa, alla mia finestra. E magari è sorpreso che qualcun altro possa dare un'occhiata ed accorgersi di ciò che si cede all'interno.